Gina Golgian, Romania, penultima delle romene a presentarsi sulla pedana del Corpo Libero. Nella grolatore individuale occupava la nonna posizione a pari merito con la connazionale Mirella Pasca, grolatore approvisoria dopo gli esercizi obbligatori. Oggi ricordiamo che le ginnaste presentano il programma libero, esercizi diversi con combinazioni, difficoltà tecniche, diverse da ginnasta a ginnasta, correlati al grado di preparazione tecnica e alle doti atletiche. Come nella scuola rumena sono esercizi molto dinamici, molto brillanti, con le ginnaste sempre in continuo movimento, niente pausi, collegamenti molto belli, molto originali e naturalmente anche grande difficoltà in quelle che sono le serie acrobatiche più importanti. Ecco, Zucara in prima diagonale e anche Zucara in finale, in ultima diagonale. Grazie a tutti.